In questi giorni sono in corso i festeggiamenti in onore di San Costabile Gentilcore nel comune di Castellabate. Oggi, mercoledì 13 febbraio, sono previste alle 16.30 il Santo Rosario e la Novena, mentre domani 14 febbraio alle ore 16 si terranno il Santo Rosario, la Novena e la Santa Messa, a seguire un convegno su la figura di San Costabile Gentilcore Abate e la cultura benedittina nella terra di Castellabate e del Cilento. Venerdì 15 alle 16.30 in programma il Santo Rosario e la Novena. Ore 18 invece il concerto dell'Orchestra dei Fati Giovanili del Cilento. Sabato 16, giorno della vigile della festa, è previsto alle 9.30 un incontro con le scuole. Ore 15.30 confessioni e momento di preghiera con i ragazzi del Catechismo. Alle ore 16.30 invece il Santo Rosario, la Novena e la Santa Messa. In programma anche il concerto per San Costabile. Domenica 17 febbraio invece giorno della festa, è prevista la Santa Messa alle ore 11, presieduta da Monsignor Ciro Miniero. Ore 17 Santo Rosario e alle 17.30 la Santa Messa e la processione per le vie del paese con le statue di San Costabile e Santa Irene. Il giorno successivo invece lunedì 18 febbraio ore 17 è in programma la reliquia di San Costabile a Ceraso. Condividiamo la santità. Infine domenica 24 febbraio è prevista la Santa Messa alle ore 16 al cimitero con il busto di San Costabile, una festività molto sentita dalla comunità di Castellabate. Ha dichiarato così ai nostri microfoni il primo cittadino del comune di Castellabate, Costabile Spinelli. Molto sentita perché è il santo padrono di Castellabate, nonché della diocesi di Vallo della Lucania, quindi è compatrono della diocesi di Vallo della Lucania, quindi molto sentita per la tradizione e la devozione che tutta la comunità di Castellabate ha nei confronti di San Costabile. In ogni famiglia adesso forse si sta perdendo, ma in ogni famiglia nelle generazioni passate era presente un Costabile, quindi Costabile è un nome molto diffuso e al quale è legata la devozione di tutta la comunità di Castellabate.